ben trovati con l'almanacco di barba nera dal 1762 lune di 24 settembre si festeggia la beata virginia maria della mercede sono varie le interpretazioni sul nome la più probabile sembra essere quella che lo fa derivare dall'ebraico miriam successivamente divenuto mariam per poi assumere la forma latina mariam e maria significa amata da dio dice il proverbio uomo avvertito mezzo punito sono nati il 24 settembre pedro almodovar alessia mertz e sergio muniz il 24 settembre del 1962 la corte d'appello degli stati uniti ordina l'università del mississippi di ammettere james meredith fu il primo studente di colora ad entrare in un'università statunitense anche se il presidente kennedy dovette inviare l'esercito per contenere i disordini razziali che ne conseguirono nel 1983 si svolge una interessante iniziativa in favore della lingua latina sempre meno conosciuta dopo essere state tradotte in tutte le lingue del mondo grazie alla eli le storie dei più popolari personaggi disneyani vengono infatti pubblicate anche in latino infine il 24 settembre del 1902 robert bosch risolve quello che car benz chiamava il problema dei problemi inventando la candela per motore a scoppio e finalmente riesce a far incendiare la benzina nei cilindri del motore delle auto alberto savinio ha detto non vi lagnate uomini della monotonia è la vostra amica migliore grazie a tutti grazie a tutti